Quando abitavo a Melbourne, per circa un mese, un mese e mezzo, nel mio quartiere Thonbury, aveva aperto un bar che praticamente era stato allestito in fretta e in furia all'interno di un garage. Era molto semplice, c'era il bancone dove si poteva ordinare da bere e poi lungo tutte le pareti c'erano c'erano dei tavoli attaccati al muro con gli sgabelli alti o meglio non sgabelli, erano un'altra cosa che adesso provvederò cos'era e poi in ogni postazione c'era uno schermo come lo schermo di un televisore e questo posto era un posto dedicato ai ciclisti. Infatti, profittando della controtendenza sia stagionale che temporale che infatti a giugno a Melbourne è inverno, e più inverno, aveva messo alziché degli sgabelli delle biciclette, ciclette, quelle che ci sono in palestra con cui si può pedalare senza andare da nessuna parte e questo posto faceva vedere unicamente nei televisori le fasi del Giro di Francia e quando era in diretta lo faceva vedere in diretta quando corrispondeva all'ora in cui era aperto, altrimenti faceva vedere delle registrazioni. Io ci sono andata una volta, devo dire che era un'esperienza molto bella, soprattutto quando ci si andava di notte perché rimaneva aperto fino a tardi, vedere anche il tipo di persone che ci vanno. Mi è venuto in mente questo bar che poi penso abbia chiuso subito dopo la fine del Giro, anzi del Tour, se mi sentono gli appassionati di ciclismo mi bacchettano sulla testa, mi è venuto in mente un altro tipo di locale che si potrebbe aprire, quindi vi do l'idea, poi se qualcuno lo fa ve lo faccia sapere. Cioè usare quei video che ce ne sono diversi su YouTube, virtual walks. Praticamente una persona si mette una GoPro camera in testa e poi cammina per ore, un'ora o due ore, quello che vuoi, attraverso le strade di diverse città, diversi paesaggi. Io al momento ne sto seguendo uno che si chiama Virtual Japan e ci sono queste passeggiate sia di giorno che di notte attraverso le strade di Tokyo. Niente di che, è semplicemente una persona che cammina e quindi noi seguiamo allo stesso passo questa persona che cammina. Ecco, prendete un garage, metteteci delle postazioni, anziché le biciclette mettete dei tappi roulant e poi mettete dei piccoli schermi dove farete vedere e ognuno si può cercare poi in un menu se vuole passeggiare a Tokyo, a New York, a Milano o nel deserto. Secondo me è una cosa che funzionerebbe perché unirebbe la curiosità di vedere posti che non si conoscono al direttevole. Magari ispira anche qualche scrittrice che vuole ambientare lì una sua avventura, un suo romanzo. Che ne dite?